di andare a ricoprire la seconda carica istituzionale del nostro paese, si chiama Pietro Grasso, prego. Scusate, devo iniziare il mio intervento con un triste annuncio, parecchi di voi lo sapranno già, ma in Afghanistan, nella provincia di Farah, nel corso di un'operazione congiunta dei militari italiani e afghani, un veicolo Lynch è stato attaccato, ha perso la vita un capitano siciliano originario di Barcellona, Pozzo di Gotto, del terzo reggimento Bersaglieri e tre militari sono rimasti feriti. Io desidero esprimere il mio dolore cordoio e l'auspicio di pronta guarigione per i militari feriti. Vi invito ad osservare un minuto di silenzio in memoria del nostro caduto. Grazie. Grazie. Autorità, cari Presidenti, imprenditori, giovani, è per me un autentico onore essere oggi in mezzo a voi che rappresentate per l'Italia il segno tangibile di una imprenditorialità innovativa e dinamica, giovane non solo nell'età ma anche nei contenuti, nello stile, nella progettualità. Nel ringraziare Confindustria per l'invito a partecipare a questo importante momento di confronto nella magnifica cornice di Santa Margherita Ligure vorrei esprimere ai tanti giovani imprenditori presenti la mia personale vicinanza. Vicinanza per le difficoltà che specialmente nell'attuale contesto economico ogni giorno siete chiamati ad affrontare. Ma anche sincero apprezzamento per i risultati che nonostante tutto siete riusciti a raggiungere nel campo dell'imprenditoria che vi assicuro, viste le condizioni esistenti, sono stupefacenti, hanno del miracoloso anche se ci si sofferma a considerare la vostra giovane età. Ai ringraziamenti unisco un plauso per l'impostazione che avete scelto di dare a questo incontro. Un incontro che consapevolmente vuole affrontare la crisi in termini costruttivi come momento di ripensamento dell'esistente, un'occasione di riforma strutturale del nostro sistema economico, un obiettivo molto ambizioso che mi ha indotto ad abbandonare i classici approcci politici sul tema, che soffermano l'attenzione solo sui possibili correttivi alla crisi. Hanno certamente un rilievo preponderante, le strategie macroeconomiche per risollevare le aziende nazionali dalla crisi, il possibile sistema di incentivi alla produzione e all'imprenditorietà nazionale, le misure di abbattimento del cuneo fiscale con cui rilanciare l'economia. Ma le linee di fondo della politica macroeconomica conoscono ora percorsi decisionali che in larga misura prescindono dalle disponibilità del singolo politico e forse anche della singola istituzione. La crisi che ci troviamo ad affrontare, è stato detto più volte nel corso dei precedenti interventi, è stata da tutti dipinta come una crisi globale nella sua portata e nella sua estensione. Ma la globalità della crisi non ha certamente eliminato le specificità nazionali che infatti sono emerse e continuano a emergere sul piano della diversa reattività del tessuto produttivo alla crisi ed anche della capacità degli Stati di fornire risposte ai bisogni emergenti. Il tentativo di conciliare queste due dimensioni, quella globale e quella nazionale, ha dato origine a livello europeo ad un sistema di risposta assolutamente originale. sia in prospettiva storica che in chiave comparata. Quella che viene definita la nuova governance economica europea rappresenta infatti un meccanismo estremamente innovativo di regolazione economica fondato sull'integrazione tra i livelli istituzionali e normativi dell'Unione Europea e degli Stati membri e un'integrazione che per la prima volta ha portato a far dialogare in chiave multilivello quelle sfere di decisione, le politiche fiscali e di bilancio, la politica macroeconomica che da sempre hanno rappresentato il nucleo fondante della sovranità nazionale. Gli Stati ora non sono più soli ad affrontare la crisi. Le fasi della programmazione economica di bilancio non si esauriscono più a livello nazionale ma sono coinvolte in processi continui di interazione fra Bruxelles, Roma, Parigi, Berlino cadenzati nel corso dell'anno il cui obiettivo ultimo è prevenire futuri disastri finanziari ed economici e promuovere la ripresa comune. Alcuni hanno affermato che questa nuova governance economica ci fa perdere un pezzo della nostra sovranità nazionale. Io non sono di questo avviso. Penso che il meccanismo di controllo reciproco che è stato attivato rappresenti la migliore garanzia per tutti noi, per le istituzioni, per le imprese, per i lavoratori. Ma la piena e convinta adesione ai valori e agli obiettivi dell'Unione Europea non deve impedirci di guardare con onestà e schiettezza alle debolezze strutturali che contraddistinguono l'economia nazionale. Dobbiamo mantenere sempre alto il livello di allerta. Il 29 maggio scorso la Commissione europea ha infatti raccomandato al Consiglio di chiudere la procedura per disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia. Lo ha fatto riconoscendo i significativi sforzi di riduzione del rapporto tra disavanzo pubblico e prodotto interno lordo passato dal 5,5% nel 2009 al 3% nel 2012. Siamo rientrati negli schemi. Bene, questo è un successo importante, ma non ci consente di ritenere ormai raggiunti i nostri obiettivi. La stessa Commissione europea nella sua analisi annuale sulla crescita italiana pubblicata il 10 aprile scorso ha sottolineato gli squilibri macroeconomici che ancora caratterizzano il nostro Paese, i quali risiedono nella perdita di competitività esterna nell'elevato debito pubblico in un contesto di protratta debolezza della crescita. Per questo nei prossimi mesi dovremmo pensare a una nuova strategia di intervento orientata al medio-lungo periodo che si rivolga non tanto a risanare i conti pubblici ma soprattutto a rilanciare i fattori strutturali dell'economia nazionale, ad invertire l'andamento dei processi produttivi. E questa è in fondo la linea di indirizzo che lo stesso Presidente Napolitano ci ha affidato quando alcune settimane fa ha affermato che bisogna dare un'apertura nuova all'economia, un nuovo slancio nella società, un colpo di reni lo ha definito per sollevare il mezzogiorno da una spirale di arretramento e impoverimento. Per fare questo è prioritario ridare vigore agli investimenti perché solo se l'Italia saprà attrarre capitali al proprio interno e se necessario anche all'estero si creeranno le condizioni per la creazione di nuovi posti di lavoro, l'attrazione dei talenti migliori, la ripresa dei consumi. Ma gli investitori per credere nel nostro Paese hanno bisogno di regole chiare, di procedure lineari, di amministrazioni trasparenti, di una giustizia efficiente. Una seconda priorità parte proprio dal rapporto dei giovani con il mondo del lavoro. Dobbiamo attivarci tempestivamente per realizzare quel sistema di sgravi alle aziende sul lavoro giovanile di cui si sta parlando proprio in questi giorni, che servirà non solo a rilanciare l'occupazione ma anche a ridare speranza ai vostri coetanei in cerca di un impiego. Dobbiamo pensare a investire di più nei percorsi di alternanza scuola-lavoro e in tutti quei moduli di formazione aziendale finalizzati alla qualificazione e all'inserimento professionale dei giovani come l'apprendistato che rappresenta una reale opportunità di crescita non solo per il singolo ma anche per l'azienda ospitante perché da voi giovani noi possiamo e dobbiamo imparare. È stato già detto poco fa questo concetto, mi piace ribadirlo. Noi istituzioni dobbiamo avere questa questa spinta, questa energia e voi dovete avere questa consapevolezza che tutto ciò ci aiuta, ci aiuta a essere meglio, a interpretare meglio il nostro ruolo istituzionale. Per quanto riguarda il discorso del lavoro dei giovani, dell'apprendistato, del passaggio tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, io ricordo un esempio virtuoso che purtroppo non ho visto poi ripetere. Dei diplomati eccellenti di una scuola, di un istituto tecnico industriale siciliano sono stati per un certo periodo assunti come apprendisti da un'industria del nord. Hanno completato il loro periodo e quest'industria li ha rimandati al sud creando una dipendenza della propria azienda proprio nel sud, nel luogo di origine di questi studenti. Così facendo ha formato il personale, ha valorizzato, vi riassicuro, delle generalità di giovani del sud che purtroppo spesso vengono sprecate e ha costituito un punto di riferimento al sud per uno sviluppo e una crescita nel territorio d'origine. Bene, questo esempio mi faceva sperare che questo modello potesse decollare ma purtroppo ho visto che un po' anche perché è un modello che ha bisogno di qualche aiuto anche pubblico per poter essere soprattutto al sud, per poter continuare ad essere e io spero che questa sia un qualcosa che si possa riprendere. In questo scenario il ruolo affidato alle istituzioni parlamentari è potenzialmente strategico. Il Parlamento italiano continua ancora oggi a mantenere una forte influenza sui contenuti della legislazione finanziaria e di bilancio che in altri Paesi sono piuttosto affidati alle scelte programmatiche del Governo. Le due Camere dovranno certamente attivarsi per promuovere un uso responsabile del potere di emendamento sui documenti contabili del Governo con l'intento di garantire che l'esame parlamentare di tali testi diventi una fase di autentico e costruttivo confronto in cui il perseguimento degli obiettivi macroeconomici è contemperato con i bisogni sociali emergenti. Inoltre dovremo sforzarci di portare il Parlamento a concentrare le sue energie sul controllo finanziario e di bilancio, sulla verifica delle previsioni macroeconomiche che il Governo utilizza per redigere i propri documenti contabili sul monitoraggio della spesa pubblica. Già molti passi in avanti sono stati compiuti sul terreno del controllo parlamentare. Penso in particolare alla prassi, ormai divenuta legge, delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri alle Camere prima e dopo lo svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, proprio per illustrare la posizione che intende assumere e per informare i competenti organi parlamentari sulle risultanze di tali incontri. Però abbiamo bisogno di andare oltre, promuovendo l'accesso del Parlamento a canali di informazione sulle tendenze economiche e contabili alternativi a quelli governativi che possano garantire una vera trasparenza democratica. Dobbiamo fare in modo, vista la centralità nel nostro sistema del Parlamento, che proprio il Parlamento sappia sviluppare una propria autonoma capacità di analizzare, comprendere e filtrare i dati disponibili. Sono questi obiettivi cui riusciremo a dare una concreta risposta con la Costituzione dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, organismo indipendente previsto dalla legge costituzionale numero 1 del 2012, che ha esplicitato nella nostra Carta Costituzionale l'obbligo del pareggio di bilancio e poi disciplinato dalla legge attuativa della riforma, la legge numero 243 del 2012. Ma a fronte di queste sfide è necessario domandarsi quale sia il contributo che voi imprenditori, voi giovani, potete offrire. La governance è per definizione un sistema di regolazione diffuso, privo di un vertice e forse anche primo di un centro operativo in cui ogni singolo componente deve diventare elemento propulsore del meccanismo. Quello che a voi viene chiesto oggi è di continuare a lottare perché la crisi non scalfisca le dinamiche di fondo dell'economia di mercato, difendendo la concorrenzialità dagli attacchi sempre più insistenti e potenti provenienti dai mercati alternativi della criminalità organizzata, che proprio nella crisi trovano terreno fertile di affermazione. Dovrete inoltre sapere resistere alle lusinghe della corruzione che si faranno sempre più insistenti negli spazi di mercato contratti dalla crisi, consapevoli del fatto che la nostra produzione nazionale potrà riprendere e crescere solo se basata su solide fondamenta. Sono fondamenta che partono da una rinnovata capacità di investire su fattori di crescita nazionali, quei fattori sani che possano ridare slancio a tutto il circuito produttivo. E vi posso assicurare che non sarete lasciati soli in questo difficile compito. La crescita richiede infatti una visione pragmatica e unitaria, fondata su una più strutturale cooperazione tra gli attori politici e le forze produttive, sulla riscoperta di un nuovo rapporto fiduciario tra l'impresa e la politica, tra chi produce e chi decide. E questo è un terreno su cui, anche grazie all'importante azione di sensibilizzazione e di mediazione, posta in atto dalle vostre associazioni di categoria, non partiamo certamente da zero. Vorrei ricordare in particolare il protocollo di legalità sottoscritto nel 2010 tra il Ministero dell'Interno e la Confindustria, poi rinnovato nel 2012, che attraverso una fattuale collaborazione tra imprese e autorità pubbliche finalizzata a contrastare l'azione delle organizzazioni criminali e nell'economia ha segnato un momento di rilevante evoluzione nella garanzia della libertà di impresa. Le stesse misure legislative sul pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione che il Senato ha licenziato in seconda lettura lo scorso 4 giugno sono il segnale di un cambiamento orientato proprio in questa direzione. E ancora l'accordo da ultimo raggiunto dalla Confindustria e dai sindacati su un tema delicato e da sempre controverso come quello della rappresentanza e della democrazia sindacale conferma che vi sono oggi nella crisi le condizioni per superare vecchie barriere e partire insieme comprendendo che il lavoro e l'impresa devono difendere gli stessi interessi. Queste sfide culturali, prima ancora che economiche, per essere affrontate con coerenza richiedono però da parte di tutti voi un assoluto rigore etico. E' importante che tutti coloro che operano nel mondo economico si ritrovano in quelle scelte e in quei valori fondamentali. Il rifiuto della corruzione, il contrasto all'evasione fiscale, la rinuncia agli impieghi irregolari che costituiscono le condizioni necessarie per una economia realmente libera ed anche sana. Solo se mossi da questo senso di responsabilità sociale, prima ancora che professionale, potrete liberare il nostro mercato dalle molte catene e dai molti vincoli che il radicamento di comportamenti scorretti sul piano etico quotidianamente pone sul nostro cammino. Questo impegno per la legalità non mancherà di far sentire i suoi riflessi anche sul piano economico, consentendo di ridestinare alla finanza pubblica e quindi alla collettività le risorse sottratte all'illusione e all'evasione fiscale, i patrimoni strappati alla criminalità organizzata attraverso il sequestro e la confisca. Colgo l'occasione per sfatare un luogo comune, visto che c'è la presenza anche di giornalisti stranieri. Da un sondaggio effettuato anni fa dal CNR su mille imprenditori che avevano investito in Sicilia alla domanda su cosa li avesse più impressionati, nel senso che hanno trovato delle difficoltà che non si aspettavano, naturalmente la tendenziosa, la domanda, si pensava che la risposta fosse la mafia. La risposta al 100% è stata la burocrazia amministrativa. Questo è molto indicativo per capire cosa è importante per un imprenditore. Non che la mafia non sia un elemento che frena, per carità, non voglio dire assolutamente questo, però nella logica imprenditoriale la lentezza della macchina burocratica è un elemento che costa tantissimo, è un costo elevatissimo come c'è stato detto anche precedentemente. E allora è lì che forse con la semplificazione, con la trasparenza della pubblica amministrazione si può dare veramente uno slancio all'economia, non più mille e mille, duemila autorizzazioni per fare qualcosa. In altri paesi basta andare da un sindaco, presentare un progetto, avere un bollo, il giorno dopo puoi costruire. Perché in Italia non deve essere possibile? Consentitemi di concludere con una battuta ispirata proprio al titolo di questo 43esimo convegno. Scateniamoci, liberiamo l'Italia da vincoli e catene, che trovo estremamente calzante ed anche molto efficace, un plauso a chi l'ha ideato. Scatenarsi ha infatti un doppio significato, vuol dire liberarsi da quel sistema di lacci e lacciuoli che ingestano l'economia nazionale, ma anche liberare le tante energie positive che da sempre accompagnano la nostra capacità produttiva. La prima è un'accezione negativa, una difesa da qualcosa, mentre il secondo significato allude piuttosto a un'azione positiva, un saper dar libero corso a qualcosa che è dentro di noi. Mi auguro che ciascuno di voi possa portare con sé da questo convegno soprattutto una spinta in questa direzione e che questa spinta sia alimentata proprio da quel senso di responsabilità etico di cui parlavo prima. abbiamo tante energie da scatenare e la capacità di liberare queste risorse dipende innanzitutto da voi che con la vostra imprenditorialità, mettendo in campo il vostro migliore entusiasmo, saprete non solo realizzare voi stessi, ma anche offrire a tanti altri giovani l'opportunità di portare a complimento i propri sogni. bene, io spero che questa energia che mi ritrovo anch'io, pur non essendo più giovane come voi, possa essere qualcosa che si diffonda, perché l'energia, la passione, l'entusiasmo nel lavoro è qualcosa di veramente contagioso. io lo vedo con le persone che lavorano attorno a me. Io spero che questo possa trasferirlo anche al Parlamento e al Paese, anche attraverso il vostro aiuto. Grazie. Cito. Non sapevamo, altrimenti il clima sarebbe stato diverso, la tragedia che c'è stata per i nostri soldati. Cito al volo, dagli appunti del suo discorso, prima di farle una domanda. manteniamo l'allerta sugli squilibri dei conti pubblici perché la battaglia non è finita, ma risannare non basta. Dai giovani si impara, non sarete lasciati soli etica e legalità per far ripartire l'economia. E infine, questa cosa dell'energia. E la domanda che le voglio rivolgere è proprio sulla questione dell'energia. Lei che è un novizio della politica politicata, adesso, dopo questi primi mesi, prevale l'energia per fare qualcosa in avanti, anche la curiosità, lo sfizio, la voglia, oppure quando le tremano i polsi, data la complessità, sto usando un eufemismo, della situazione politica italiana? Io sono felice di questo ruolo che non mi aspettavo di ricoprire quando ho scelto di abbandonare la magistratura definitivamente, di passare alla politica. Anche perché, devo dire che, ero stato spinto da qualcosa che pensavo di interessarmi soprattutto sul tema della giustizia, perché è quello che è il tema maggiormente praticato in 43 anni di magistratura. E quindi pensavo, ma in passato abbiamo chiesto tante leggi per accelerare la giustizia. Questo è un altro dei temi che non abbiamo affrontato, che però, proprio per questione di tempo, ma una giustizia rapida che dia garanzia di vedere riconosciuti i propri diritti è qualcosa di essenziale per un investitore straniero, ma anche per un italiano. E quindi io pensavo di dovermi occupare di questi temi e poi è venuta questa, diciamo, questa nomina, questa elezione col metodo grasso, perché nel senso che mi sono addormentato Pietro Grasso, mi sono svegliato domani mattina metodo grasso. Bene, e quindi adesso devo dire che rispetto a un ruolo politico confrontato con la mia precedente professione, il ruolo istituzionale di essere super partes in un'assemblea in cui devi garantire tutte quante i gruppi parlamentari, la politica, ecco mi trova molto più confacente da un punto di vista politico, tra virgolette. Però non c'è dubbio che si sono aperti orizzonti che prima non conoscevo. Io non ho perso di vista comunque i miei obiettivi precedenti e spero di poterli realizzare attraverso questa nuova funzione. Grazie. Ce li auguriamo. Grazie Presidente. Buona giornata. Grazie. 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 Grazie.